Parliamo adesso di medicina e delle proprietà curative dei funghi, non solo come alimento, ma come valido aiuto nei pazienti oncologici. In natura si contano 140.000 specie, di queste solo il 10% è stato descritto. Parliamo dei funghi, non solo alimento, ma vera e propria officina di produzione di centinaia di molecole benefiche per la salute. Tanto che ora alcune specie da millenni usate nella medicina cinese vengono utilizzate a fianco della medicina tradizionale, soprattutto nei malati oncologici. A Padova in particolare i funghi vengono usati come tonico in convalescenza oppure studiati in vitro e in vivo su diverse linee di tumori, nel carcinoma renale, epatico, polmonare e nella leucemia. Nel paziente oncologico abbiamo vari lavori, devo dire migliaia ormai di lavori che sono pubblicati. I soggetti sottoposti a radioterapia, chemioterapia, abbiamo lavori che dimostrano effettivamente come vanno a contrastare, in alcune situazioni diciamo vanno a contrastare gli effetti collaterali. In altri addirittura hanno un effetto di potenziamento della terapia, sia chemioterapia che la radioterapia. Le patologie possono essere molteplici. Vengono usati come antiossidanti con funzione antiinfiammatoria, antimicrobica e antidiabetica e con funzione di protezione del sistema cardiovascolare. Lo possiamo utilizzare nelle situazioni dove il sistema immunitario è iperespresso come per esempio nella tiroidite, nelle malattie autoimmunitarie e viceversa lo possiamo utilizzare anche nelle situazioni in cui il sistema immunitario invece è soppresso e indebolito. Nuove branche della scienza stanno sorgendo grazie al riconoscimento delle potenzialità dei funghi. La micoterapia è una di queste.